Seconda parte delle notizioni in compagnia di Alessandro Cotto, segretario regionale dei Vardi. Io ti chiamo sempre segretario perché portavoce sembra... questo è un sfigato. Devo dirti la verità. Senti, noi oggi è un po' una seconda parte un po' particolare perché noi abbiamo le elezioni di Monfalcone alle porte, tra qualche giorno appunto si vota, abbiamo una situazione dove Tuiac è diventato più popolare di Salvini probabilmente e poi abbiamo un grande problema, il rischio di fare tanta confusione anche a Monfalcone e poi di trovarci nella situazione triestina. Partiamo da questo ultimo punto. Quali analogie vedi tra la campagna elettorale della candidata, diciamo, leghista peraltro, di Monfalcone, Cisint, con quella del centrodestra triestino? Ma vedo molte analogie. Mi pare di capire che il candidato del centrodestra di Monfalcone sia un po' il di piazza di turno senza essere di piazza, perché almeno di piazza aveva una carica umana, un modo di fare che piace alla gente per cui porta dei voti. Insomma, è innegabile che lui abbia una capacità di vincere le elezioni e poi dopo di non sapere governare, mentre la Cisint mi pare che sia una candidata zoppe in partenza, perché è risaputo che lì sono già pronti i coltelli. Quindi, però, permettimi di fare una... Invece nel centro-sinistra, secondo me, non ci sono delle analogie, perché obiettivamente parlando, l'Altran è una candidata che ha una sua simpatia, una sua empatia con i cittadini, cosa che invece Cosolini non aveva. A noi dispiace, a noi verdi dispiace che non siamo riusciti a fare una lista d'appoggio al Tram e ci dispiace perché, insomma, avevo dei problemi di salute per cui non sono riuscito a seguire i candidati, non sono riuscito a fare le selezioni dei candidati. Mi preoccupa vedere che quelle persone che dovevano candidarsi con noi verdi, che avevano così fatto delle richieste per candidarsi con noi, li trovo sparpagliati in tutti i partiti, quindi... Beh, l'ambiente comunque non è in realtà, né di destra, insiste un marco politico... Ma, è vero, invece ti faccio io una domanda, ma è vero che i candidati sono praticamente tutti quanti disoccupati in cerca di occupazione? Ma, guarda, questa è una di quelle domande alle quali effettivamente, sai, è brutto rispondere, però effettivamente noi ci troviamo con, allora, la candidata a sindaco dei 5 Stelle disoccupata, ci troviamo con la Cuglier di Alternativa per Monfalcone disoccupata, e dopodiché all'interno del... Diciamo che, vabbè, io ho fatto una battuta, sembra quasi che questa è, a parte i pensionati che la sono già a posto, però effettivamente io ho fatto una battuta, che queste lezioni di Monfalcone, se non altro, potrebbero risolvere un po' le occupazioni di un po' di gente che cerca lavoro, quindi è un altro modo di fare un concorso pubblico al tempo determinato. Praticamente non sono delle lezioni, ma stiamo parlando di una temporale, non so com'è, di... Ma scusami, è l'unico comune, penso, in Italia dove ascoltarci ci sono solo donne, dove fondamentalmente le donne hanno problemi che devono mettere in giunta almeno 4 uomini, c'è una nuova un po' strana. Eh, interessante, interessante. Ecco, senti, invece un'altra cosa, noi abbiamo un esempio molto lampante che riguarda la Centrale A2A di Monfalcone, la Cisint dice, secondo lei, bisogna rivedere l'AIA, bisogna fare tante cose, però, ecco, insomma, abbiamo visto il comune di Trieste come è andata, ha fatto la richiesta di visione dell'AIA, l'AIA, la regione li ha quasi presi in giro per la richiesta che ha fatto. Ecco, avendo visto come è andata a fine a Trieste, non stanno facendo degli errori clamorosi? Beh, stanno facendo degli errori clamorosi, e tutti, se per questo, Trieste, Monfalcone, a livello regionale, la Saracchiani, l'assessore, cioè, stanno facendo degli errori tutti. La domanda giusta sarebbe un'altra, secondo me. Sono adeguati queste persone, questi politici, questa classe dirigente, è adeguata a gestire una città come Trieste, vabbè, ma soprattutto un comune strategico, come Monfalcone, se dovesse vincere il centro-destra, o i grillini. Guarda, credimi, io, dal punto di vista ambientale, posso anche avere alcune critiche nei confronti dell'attuale sindaco di Monfalcone, però, in confronto alle alternative che ci sono, in confronto alle persone che si candidano, obiettivamente vive l'Altranc. Anche perché mi pare di capire che sia veramente quella che ha fatto più di tutto e soprattutto si è mossa in maniera abbastanza tranquilla, senza creare disastri, senza creare casini, insurrezioni popolari, cosa che a Trieste invece c'è stata. Per quello dicevo prima... Senti, no, ma io infatti ti volevo chiedere questo, perché Robert ha fatto una campagna elettorale dicendo arriviamo noi il giorno dopo ci sono più stranieri, arriviamo noi via i parcheggi abusivi, arriviamo noi tante cose. Ecco, io trovo questa analogia, dove sembra che ancora un po' la Cisinte darà l'elenco alla fincantieri di chi assumere e chi no, troppi stranieri, più sicurezza, ma anche questo, ma anche quell'altro. Poi dopo all'interno della coalizione della lista sua peraltro vengo a sapere che mi fa che vengono in altre parti d'Italia a vedere che a Monfalcone non abbiamo problemi di sicurezza. Ecco, cavalcare un po' la protesta dei cittadini, vedendo poi che a Trieste l'hanno cavalcata e adesso la gente li sta sparando contro perché dice che siete peggio di quelli che erano prima. Non è una cosa controproducente per il centrodestra che vorrebbe prendere Monfalcone. Però vinci, questo è il problema. Ma dopo vai la braccia però. Il problema è che questi sono quei tipi di campagne elettorali dove si dicono certe cose che sono impossibili da realizzare e poi dopo si vincono le campagne elettorali. Il problema è che poi appunto bisogna governare da una parte, poi dall'altra parte, ripeto, qui su questo io voglio essere molto chiaro. Noi, cioè a Trieste noi avevamo Cosolini, a Monfalcone c'era l'Eltran. Quindi sono due cose completamente... La parla è che se dice che avevamo avuto la sfiga di avere Cosolini, parli. Noi, cioè è un tipo completamente diverso di politica. Certo, ma perché sono passati 20 e passanni di promesse, ormai anche 25. Ma perché la gente continua ancora a sognare e a votare a chi te la conta più grossa? Cioè a non scendere con i piedi per terra. Perché io ieri sentivo persone che diceva... Le persone che andranno a votare la Cisinte hanno veramente delle ambizioni di speranza, di cambiamento. Quindi comunque è arrabbiata. Ma però, non lo so, ecco, cioè a me raccontano, poi non è vero, ma mi raccontano che tra Forza Italia a Lega c'è un gelo assoluto. Allora, se ancora prima di vincere le elezioni praticamente già non si parla, ma ti immagini dopo. Ma ti faccio anche qui un'altra domanda. Se tu dovessi scegli tra Ermenigilda e Zenilda, Monica Bellucci. Scegli Monica Bellucci, anche se sai benissimo che Monica Bellucci non sarà mai la tua fidanzata, la tua amorosa. Per cui è un po' così l'analogia. Senti, ma perché a Mo Falcone gli uomini non si candidano mai a sindaco? Forse perché ci sono delle donne competenti e delle donne capaci, mentre gli uomini non sono competenti. Oppure l'unico che puntava a diventare, a candidarsi sindaco, non ce l'ha fatta. Senti, che differenza c'è? Allora, Anna Cisint è un tecnico che a me ricorda molto la Marchigiani, a Cisint come tipa. Poi l'altran è comunque un insegnante. Mi ricorda molto la bassa poropa. Che differenza c'è tra le due? Perché molto spesso si dice che i tecnici non possono governare perché non hanno il verbo politico, non riescono a parlare con i cittadini. Che differenza c'è, visto che comunque, tutto sommato, provengono abbastanza da una situazione simile? Beh, ma è un po' come... non so come spiegare. Praticamente chi è insegnante o chi ha a che fare con la gente, con i giovani, con i cittadini, con le persone, ha già anche un approccio diverso nei confronti dei cittadini e delle persone. Mentre chi è tecnico guarda la legge, guarda i regolamenti e non gliene frega niente. Secondo te è stato... Ha sbagliato il centrodestra a candidare a un tecnici? Il centrodestra, il centrodestra a Monfalcone... Perché la gente è molto arrabbiata a Monfalcone, quindi effettivamente... Il centrodestra a Monfalcone? Oggi come oggi avrebbero le chance, sì. Ma il centrodestra a Monfalcone, secondo me, ha fatto due grossissimi errori. Il primo è stato quello di avere candidato la Cisint e il secondo è stato quello che non c'era nessuna alternativa valida al di là della Cisint. Secondo te, le dichiarazioni di Tuiac in questi giorni con praticamente nessuna presa di posizione di distanza a Monfalcone, insomma, questo se ne sta parlando e anche tanto. A prescindere da tutto, quindi non voglio entrare nel merito giusto o sbagliato, ma secondo te può avere un effetto negativo o positivo sul centrodestra a Monfalcone? Credo che Monfalcone sia disinteressata interessata a Trieste. Però posso assicurare che c'è tappezzato. Il problema però è un altro. Il problema è che Tuiac a Trieste è uno. Probabilmente ci siano tanti altri Tuiac che non si chiamano Tuiac, ma altri simili a Tuiac a Monfalcone. E quindi il problema non è Tuiac, il problema è approcciarsi a fare una campagna elettorale contro gli immigrati, contro i negri, contro gli extracomunitari, contro i profili, contro tutti. Poi dopo alla fine se dovesse esserci la sciagura della vittoria del centrodestra fra sei mesi, sette mesi, quando vedranno che ci sono ancora gli immigrati, gli extracomunitari, succederà come Trieste. Ecco, veramente io faccio un appello. Sai che non si può dire votata, andamola. No, no, io faccio un appello, io dico soltanto una cosa, io dico cari cittadini di Monfalcone, avete l'occasione di non fare l'errore che hanno fatto i triestini. Secondo te oggi a Trieste vincerebbe il centrosinistra? Nonostante tutto, ovviamente non un candidato. Vincerebbero i grillini se ci fossero un altro candidato. Il centrosinistra secondo me ci sarebbe il ballottaggio centrosinistra contro grillini. Senti, io una domanda te la faccio. Si vocifera del dippo? Sì, un attimo, però se il centrodestra candidassi di nuovo di piazza vincerebbe di piazza. Purtroppo. Però a quel punto potrebbe esserci un di piazza senza Lega? Il problema è che la Lega va da sola e Forza Italia non appoggierebbe di piazza. C'è tutto questo discorso. Senti una cosa, visto che siamo un po' in chiusura, si vocifera nei corridoi di... E quando si vocifera nei corridoi? Io sono preoccupato. Ecco, si vocifera più che alto vedendo anche un po' dichiarazioni di Bertoli dove appunto insomma il malumore nel centrodestra è alto. Visto che vi sono delle componenti nell'opposizione, posso pensare a Maria Teresa Bassaporo, posso pensare a Roberto Cosolini, posso pensare a Roberto De Gioia, qui siamo già a tre quindi non saremmo neanche tanto lontani da arrivare a cinque. potrebbe esserci l'ipotesi che se la Lega non mette un po' un freno a questa instabilità che insomma sa veramente, è brutto magari usare il termine terremoto in questo periodo, ma insomma ci sta facendo un terremoto politico non indifferente. è possibile che a questo punto per il bene della città si faccia una sorta di accordo tra centrodestra e parte del centrosinistra dove il centrosinistra dice guarda io non voto contro così ti doi voto lo stesso cerchiamo di... Questa è una proposta che io farò ufficialmente nella conferenza stampa nei prossimi giorni faremo con il nostro consigliere comunale De Gioia per parlare del nostro programma all'opposizione per i prossimi cinque anni questo ufficialmente in realtà insomma in questa conferenza stampa io farò questa proposta proprio perché credo che la città sia in un momento di totale sbando soprattutto se lasciamo che la Lega Nord continui a fare queste considerazioni inappropriate per usare un eufemismo dei vari esponenti della Lega come TUIAC perché non ci dimentichiamo che TUIAC non è il solo ce ne sono anche altri e quindi questo potrebbe portare nel giro di qualche mese la città ad essere al centro dell'attenzione di alcune frange terroriste per cui io so che nel passato ci sono già stati dei tentativi di infiltrazione mi hanno detto alcune persone che insomma poi la comunità la comunità musulmana è stata grandissima fino a qualche anno fa eravamo l'unica città in Italia che aveva il cimitero musulmano e adesso arrivano questi a sta nuova generazione a sparare fesserie una dietro l'altra e soprattutto ad aizzare la gente perché è chiaro che il problema dell'immigrazione esiste è chiaro che il problema dei profughi esiste ma è chiaro che però nessuno l'ha detto questo è quello che io continuo a dire da mesi e tu lo sai perché io l'ho detto da mesi il vero problema è che il centro-sinistra è riuscito a perdere contro sti qua questo è il vero problema io ti faccio però questa domanda vorrei capire cosa c'entrano gli stranieri così come intende la regla col Monfalcone dove il popolo del Bangladesh uno rappresenta il 20-25% della forza economica di Monfalcone due che sono inseriti tre ho capito che magari qui noi abbiamo la via Torino per l'aperitiva dei Trestini e loro hanno la via e a Monfalcone c'è la via dei Bangladesh che fa gli aperitivi però producono spendono la ricchezza sul nostro territorio allora vorrei capire come si fa ad accusare il popolo dei Bangladesh ok quando sono le persone che potrebbero essere tutto sommato paragonati anche se in maniera molto distante a quello che può essere non solo la comunità rumena a Trieste dove sono in tanti dove producono ricchezza cioè voglio dire non è come magari altre razze che vengono qui e non compano neanche il caffè perché mandano tutto a casa e ci spremono e ci svuotano cioè la differenza tra stranieri che in realtà sono stranieri per muovere dire perché comunque fanno parte della nostra città della nostra ricchezza del nostro territorio e stranieri che invece vengono veramente qua a sottarci ma infatti io ho l'esempio lampante sotto cioè io siccome ho anche così dei negozi a grado basta dare grado a grado ci sono questi del Bangladesh che lavorano che producono che sono delle persone integrate poi chiaramente è capitato il caso la pecora nera insomma di quello che era stato come dire indagato per l'ISIS per essere aderente all'ISIS però voglio dire i cittadini del Bangladesh sono completamente diversi da questi ma non solo anche i cittadini stessi i musulmani che sono a Mufalconi conosco tantissime persone tunisini algerini eccetera che lavorano e che producono a Mufalcone e che sono contenti di stare lì anzi si lamentano del fatto che ci sono anche loro si lamentano troppe burocrazia ti faccio una domanda perché siamo veramente fuori abbiamo sforato di tutto ti faccio una domanda anche cattiva però non me lo prendono male le amici della Lega faresti cambio per i leghisti più estremi con i Bangladesh leghisti a Mufalcone e Bangladesh a Trier sì sì con questa battuta però i cittadini di Bangladesh poi dopo devono votare per i Verdi tanto per altri quattro anni e mezzo siamo apposti non sono sicuro perché secondo me fra sei mesi salta tutto io ringrazio Alessandro Claude segretario giornale dei Verdi buonasera io ovviamente ti ringrazio ho voluto parlare con lui perché appunto loro non sono candidati a Mufalcone quindi abbiamo cercato un posto ma è disinteressato un po' ma era per capire ovviamente per cercare di fare un po' più di chiarezza questa stessa chiarezza ne parleremo anche con un altro invece questo un po' diverso perché era anche candidato domani sarà nostro ospite o domani o sbordomani sarà nostro ospite anche Istok e Furlanic e anche con loro con lui proprio cercheremo di capire quale potrebbe essere la deriva a Mufalcone in un modo o nell'altro grazie arrivederci a Mufalcone